Oramai è più di un anno che con voi amici di FederConsumatori ci interroghiamo da un punto di vista psicologico su quelle che possono essere le migliori strategie per fronteggiare l'emergenza e a distanza di un anno vi dico che purtroppo non abbiamo trovato la formula magica perché in realtà risposte preconfezionate per il malessere, per il disagio di ciascuno di noi non ce ne sono e proprio per questo FederConsumatori in Puglia cerca di essere al fianco dei cittadini e delle persone continuando ad offrire una consulenza psicologica gratuita con me come psicoterapeuta che come sempre continuerò a garantirvi il mio ascolto, il mio impegno e la mia professionalità.